Buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Tutto dal web. Dagli studi di mattino 5, stamattina Federica Panicucci ha parlato nuovamente di Angela Celentano e fa capire che siamo veramente a una svolta, soprattutto per quanto riguarda la ragazza che si è recata spontaneamente nello studio dell'avvocato Ferrandino, legale della famiglia Celentano. Nelle ultime ore, se non a breve, si avrà l'esame del DNA. Il suo racconto di questa ragazza è stato molto dettagliato di quel giorno su Monte Faito. Sono io Angela Celentano, dice la ragazza, ricordo una grotta, ricordo tutto. L'avvocato però rimane cauto e con i piedi per terra, infatti lui crede che questa donna non sia Angela Celentano, però il test del DNA ovviamente l'ha ritenuto opportuno farlo, ma sicuramente questa donna può essere una di quelle tante bambine scomparse in Italia. E per questo motivo ha ritenuto opportuno fare il test del DNA, ma ragazzi la cosa più importante è che si riaccende un'altra speranza, quella già in passato di cui ne ho parlato anch'io in un video, la speranza dal Sud America. Ma la speranza su Angela Celentano rimane accesa e anche molto su una ragazza che vive in Sud America. E proprio grazie alla segnalazione di questa ragazza sudamericana, molto somigliante alle sorelle di Angela, gli inquirenti si sono attivati per procedere all'esame del DNA. È passato un mese e proprio oggi, ragazzi in diretta su Canale 5, il legale della famiglia di Angela Celentano ha fatto intendere, senza scendere comunque nei dettagli, come sia difficile risalire al test del DNA di questa ragazza. Lei, l'avvocato Ferrandino, ha confermato oggi in diretta, appartiene a una famiglia molto facoltosa del Sud America e quindi la ragazza pare sia anche protetta dalle guardie del corpo. Ma i genitori di Angela faranno di tutto per risalire al DNA di questa giovane di 26 anni, perché è molto somigliante a una delle sorelle, in particolare a quella maggiore. Ma soprattutto, dice il legale, ha la voglia dietro la schiena di questa ragazza simile a quella che aveva la piccola Angela Celentano. Come sappiamo, ulteriori aggiornamenti, saremo qui i primi a comunicarli sul mio canale Tutto dal web.